Il momento più difficile è quando non trovi il passaggio, come difficoltà, il momento più difficoltà. Il momento più bello vabbè quando raggiungi e vedi la meta, vedi la bandiera, vedi il libro, quando vedi la faccia di Bostantino, la faccia di Frou, questo è il momento più bello. E poi il momento più bello è stato questo. Io mi sono conosco. Io non me lo aspettavo. Comunque lei ci aveva preso, perché chi piangerà per primo lei ha detto io, effettivamente mi sono conosco. Allora vogliamo salutare Giacomo, i figli tutti, le nuore, i bimbi, i nipoti, tutti. Vogliamo dedicare questa cosa alla Romagna, alla nostra terra.